Bentornati su One, il podcast di Lissone Giordano dedicato ad architettura e design. Siamo ancora una volta in compagnia di Maurizio De Caro, architetto, critico dell'architettura, opinionista, questa volta Maurizio con una domenica mattina di risveglio dolorosa, la notizia della scomparsa di Vittorio Ricotti. Sì, in effetti è arrivata questa notizia, sapevamo da un paio di giorni tramite amicizie voglio dire nell'ambito medico che era stato ricoverato, l'età era molto avanzata, 92 anni e che era comunque aveva una polmonite, questo naturalmente non giustifica o non lenisce ovviamente il dolore per una perdita che come ho scritto nell'editoriale appunto su One non è legata all'architettura in quanto tale ma è un discorso più generico legato alla cultura italiana, insomma scompare uno degli ultimi grandi intellettuali del Novecento. Vittorio Ricotti non soltanto celebre architetto, progettista ma anche scrittore, filosofo, architetto e teorico dell'architettura. Sì, lui aveva questo taglio nei confronti della professione che partiva da una ricerca molto profonda, per questo lo sento anche molto vicino perché è lo stesso paradigma che in qualche modo ho sviluppato io in questi anni, cioè un rapporto tra teorizzazione e realizzazione dell'architettura che sono quasi disgiunti, cioè lui dava grande importanza alla ricerca culturale, quindi rapporti con la musica, rapporti con la filosofia, rapporti con l'arte, rapporti con la letteratura, ma rapporti intensi, faccio un esempio per tutti, lui era uno dei più grandi amici di Umberto Eco, quindi di quella specie di convivio straordinario che c'era a Milano di cui ahimè sono scomparsi ormai, credo tutti, no direi proprio tutti, quindi una figura assolutamente anomala, poi sul tema dell'architettura si può aprire un dibattito, è stato un uomo anche molto controverso, contraddittorio, però di questo possiamo parlare se vuoi in maniera un pochettino più specifica. Maurizio, hai tracciato questa mattina di getto un ritratto che definirei intimo, come abbiamo titolato, di Vittorio Grigotti perché non è soltanto una conoscenza che proviene dalla stima per il lavoro, per la sua opera nel campo architettonico, ma anche umano e soprattutto per averlo incrociato personalmente? Sì, un rapporto umano, nel senso che non è che io l'abbia frequentato anche per una differenza d'età più profonda e poi devo dire che in diverse occasioni avevamo avuto momenti dialettici piuttosto forti sui giornali, però non era mai venuta a meno quella grande stima intellettuale che c'è comunque tra figure che fanno ricerche sicuramente diverse, per esempio la sua posizione nei confronti degli ultimi movimenti architettonici era molto critica, ma estremamente critica, però questo non va ad inficiare la sua ricerca teorica e soprattutto non dimentichiamo che comunque è un uomo che ha cercato per tutta la sua vita di sprovincializzare l'architettura e mi permetto di dire, Andrea, la cultura italiana, quindi è una figura che ha pochissimi altri elementi di riferimento se non il grande Aldorossi, non ne vedo forse Andrea Brasi, ma non vedo figure di questa elevatura, ripeto, culturale ed intellettuale, anche di formatore secondo me. Divulgatore anche attraverso soprattutto intellettuale e critico dell'architettura, lo ricordiamo alla guida di Casabella e Rassegna ad esempio, credo che sia stato un tratto importante del nostro percorso di formazione in qualche modo, no? Non c'è dubbio, ecco anche il suo rapporto soprattutto con Casabella, allora Casabella e Rassegna sono due riviste totalmente diverse, Rassegna nasce da un suo desiderio di avere una rivista monografica molto ricca, molto intelligente, anche molto sperimentale e molto spinta. Casabella diventa un luogo di dibattito, le riviste all'epoca erano una cosa molto diversa da quelle che sono diventate oggi, parlo anche perché esistevano solo a livello cartaceo, quindi erano sostanzialmente una sorta di convivio dove menti di un certo livello, di molte età, di molte generazioni si incontravano, discutevano, lui è figlio comunque di Rogers e di quella generazione e si incontravano, discutevano e potevano scambiarsi idee piuttosto forti e importanti su una rivista che peraltro era in quel momento con Domus la più importante d'Italia. Era anche quella, anche la rivista era un luogo di formazione dove i grandi maestri discutevano con i giovani redattori, con le figure nascenti e sono quei luoghi che oggi si sono un po' persi e mi piacerebbe sinceramente che One diventasse un luogo di dibattito esattamente come è stato Casabella, Casabella Continuità o la stessa Rassegna. C'è un luogo dove figure anche molto diverse da un punto di vista proprio delle scuole di riferimento, possano discutere, dibattere e creare delle linee editoriali in grado di incidere sulla cultura contemporanea, insomma. Quello che Casabella ha fatto e rassegna successivamente, naturalmente. Invece tornando a Vittorio Grigotti, architetto, progettista, ci hai riportato alcune memorie? Qual è stata la tua posizione? Sicuramente, Andrea Cella, Vittorio ha lavorato sulle grandi dimensioni, alla scala urbana, questa idea che lui avesse del piano, del governo del territorio come una specie di grande puzzle di tante architetture. Lui quando faceva insieme a Cagnetti e i suoi dello studio un piano regolatore arrivava a un dettaglio quasi architettonico del piano regolatore. I grandi complessi che lui ha realizzato hanno avuto vite molto diverse. È chiaro che non possiamo paragonare il quartiere Bicocca di Milano col quartiere Zen di Palermo, nati in momenti diversi, con finanze diverse, con situazioni diverse e oppure tanti altri episodi che lui ha fatto, dal museo di Lisbona fino allo stadio di Genova. Sono sempre architetture, ripeto, che hanno suscitato grandi dibattiti, anche grandi scontri culturali e delle varie scuole, perché lui era rimasto fermo, fisso a una sua idea di razionalismo italiano, come lo definiva, una specie di identità nazionale che si esprimeva attraverso un'architettura che nel corso dei 5-6 decenni in cui lui ha lavorato non è mai cambiata, è sempre stata la stessa. Lui faceva della coerenza un elemento fondativo della sua ricerca architettonica. Se tu lo confronti con quello che è oggi, quelle che sono oggi le scuole di pensiero, capisci che un Gregotti era completamente un pesce fuor d'acqua, perché ci sono studi di progettazione i più importanti del mondo, che ogni volta che fanno un progetto o realizzano un progetto non ha niente a che vedere con quello precedente. Quindi è un modo completamente… ecco, è un modo filosofico di affrontare l'architettura, secondo me, per questo non è stato compreso fino in fondo. Io stesso non l'ho mai amato moltissimo come architetto, però devo dire che c'era un rigore nel suo lavoro che evidentemente va riscontrato. Poi c'è bisogno forse di ritornare ad analizzarlo con più profondità. Ti ripeto, io l'ho sempre stimato e amato come filosofo, come ricercatore, come teorico, come scrittore. Aveva una scrittura molto complessa, Vittorio, tra l'altro, molto densa. Era come se volesse selezionare attraverso la sua scrittura un pubblico. Però è la coerenza dello scrittore, insomma, è ovvio. Ci manca già. Diamo un addio doloroso, affettuoso, nel silenzio di una Milano particolare, in un clima assolutamente particolare. Sì, perché nel caos, insomma, di questa città la grande novità che questa condizione in cui siamo tutti costretti è questo silenzio assolutamente surreale, insomma, irreale che si vive, perché in una grande città si nota molto di più. Oggi passeggiavo in una strada centrale, ascoltavo i discorsi di persone che erano a 7-8 metri di distanza, perché comunque c'è un'acustica particolare di riverberi strani del suono, per cui tu passeggi, ascolti il discorso di uno che ha 4 metri e un altro che… Ecco, mi è sembrato anche un tema quasi simbolico, quasi da requiem, insomma, questo silenzio per la perdita, insomma, di una figura. Adesso poi leggeremo le cose che scriveranno gli altri. Non credere che tutti celebreranno ovviamente questa figura, infatti io l'ho anche scritto su One, perché ho detto che il giudizio sulla sua opera sarà esattamente identico a quello che era il commento che si faceva su ogni opera che lui realizzava, insomma, questo è ovvio. Forse non gli hanno perdonato anche questo suo essere un po' non retro, non so come dire, molto legato a forme di architettura dove sostanzialmente erano rimasti in pochi a produrla, non erano tantissimi gli architetti nel mondo che producevano quel tipo di architettura. Quindi lui si era un po' autoisolato in maniera un po' snobistica. Però devo dirti che il suo ruolo di protagonista culturale nel dibattito sul progetto milanese e italiano ed internazionale, non dimenticare appunto come ho scritto che la sua è stata la prima ferma internazionale di uno studio italiano, è stato il primo. Quindi questo secondo me è un altro, lui lavorava a livello planetario, ha lavorato in credo 20-25 paesi del mondo, ma ha mantenuto questa identità locale. Lui è stato il primo glocal che io abbia mai conosciuto in qualche modo con questa identità proprio tipicamente italiana, insomma. Questo tipo di ricerca, ti ripeto, ha creato una serie di contrasti. Nella cosa anche un po' spiritosa che io ho scritto a proposito del mio esame di stato di abilitazione, è vero. Io ho scritto un testo di 40 pagine a mano in cui mi era venuto in mente di analizzare un progetto tutto in negativo, questo progetto abbastanza monumentale che lui aveva immaginato per collegare la stazione Nord con via Mario Pagano coprendo completamente un pezzo dell'interrato della ferrovia dentro il Parco Sempione. Era una cosa, francamente, era una mega struttura molto impegnativa. Devo dirti, oggi possiamo dire, per fortuna, non è stata realizzata. Io ho fatto quell'esame pensando sinceramente di essere cacciato via, ma è arrivato Jonathan De Pas, che era una figura molto spiritosa, molto divertente, che invece per il coraggio mi ha dato il massimo dei voti. Ecco, quindi, ma questa cosa, ti ripeto, non impediva di valutare. Lui ha scritto delle cose, secondo me, fondamentali nella storia della ricerca teorica in questo Paese e non solo. Siamo assolutamente d'accordo e Maurizio ti ringrazio davvero per aver condiviso già dalle prime ore della giornata il tuo ricordo appassionato con One, prima scrivendo e poi condivendo con noi questa intervista. Ti ringrazio ancora e a prestissimo. E l'invito a tutti i nostri ascoltatori di continuare a rimanere con noi, registrandovi al nostro podcast One Architettura e Design sulle principali piattaforme digitali e seguendoci nel magazine online su one.listonegiordano.com. Alla prossima! Ciao!